Giovedì 7 novembre, dopo una complessa attività di indagine, la Polizia di Stato ha proceduto al fermo del responsabile dell'incendio che il 21 ottobre scorso ha avvolto il tetto della Cavallerizza Reale di Torino, nell'area delle scuderie e dell'ex circolo del dopo lavoro. L'uomo è stato individuato dal commissariato centro di Genova durante un controllo, a seguito del quale è emerso che il suo carico sussisteva un rintraccio per l'esecuzione di un fermo disposto dalla procura di Torino. L'attività si inserisce nell'ambito dell'indagine, nel corso della quale sono stati ascoltati alcuni occupanti dell'area Granai, già attenzionati in ragione di un'indagine per furto di energia elettrica. Tra questi anche il fermato, che ha riferito di essere senza fissa dimora e di pernottare all'interno della struttura da circa un paio di mesi. In merito all'incendio, l'uomo ha detto di essere estraneo ai fatti di aver fatto rientro alla Cavallerizza alle 6 del mattino, dopo aver trascorso una notte ai murazzi del Po. Tale versione però è stata smentita dai filmati delle telecamere installate dal personale del commissariato centro di Torino, che stava indagando su una probabile attività di spaccio nella Cavallerizza. Dalla registrazione, infatti, si nota l'uomo dirigersi verso la porta della struttura della Cavallerizza, nota come il tempietto, versare il liquido di una bottiglia in vetro per poi tentare di appiccare fuoco con un accendino senza riuscirci. Dopo un paio d'ore è stato immortalato mentre si stava dirigendo nella zona dei Granai, muovendosi nell'oscurità mentre accendeva di tanto in tanto delle fiammate. In seguito lo si vede allontanarsi precipitosamente da una porta dei Granai, quella dalla quale sono partite le fiamme del noto rogo. Grazie Grazie Grazie